andando allora fra quanto arriva cosa? ah bene ah 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 si sentite? strano non succede mai ah 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 beh, si è addormentato di nuovo? no, beh, non so vabbè, eh quando volete chiaro guardi un po', cazzo ora, la domanda stai cercando mhm io non c'è niente da dire ma perchè tu ma perchè tu ridi ogni cosa vado in bagno senti lo sciacquone ridi che bello no, dai ragazzi ragazzi io ho avuto la tiglia in fondo ma non so che ha non è stato ma se non è stato ma non è stato non è stato non è stato ma non è stato ma non è stato ma non è stato non è stato un po' d'alta quota, cazzo! Grazie! 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 Ci siete? Grazie! Grazie! Ah, che sei! Grazie! 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 Direkte! Voglio! Ahahah! GG! il punteggio come chi vince matte di 1 per vincere quanto si deve arrivare? 5 4-3 LOL 6 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No vabbè non più di tanto, diciamo il primo è durato parecchio il primo punto, durato abbastanza.